Forzare Banovaz, uno straniero che oggi non ha inciso e consente il 2 contro 1 che è anche 3 contro 2, scegliete voi, scaricata la parte dell'opposta. Che bello, che bello, un sciapò, un gran colonnello, questi sono i numeri che fanno non bene di più al nostro sport. Guardate il replay che adesso ci manda Nazaleno Balani, mentre si nuota porta con il braccio sinistro il pallone nel braccio destro e tira in maniera repentina, il portiere non arriva. È un colonnello veramente eccellente.